o cari amici degli alti e bassi siamo qui guardate un po chi ha trovato su stradunche portava di doscalo eccolo qua mi vita bavone allora ricordate chi sono a quest'ora non me lo ricordo come mi chiamo nino farcassi nino frassica amici nino frassica rispondiamo la morire o mi raccomando mettete mi piace sulla pagina di programma non c'è più la pagina di radio 2 fateci complimenti a radio 2 di dire che siamo i più bravi i più bravi del monte bravi del monte bene allora un saluto a tutti gli amici degli alti e bassi e ascoltate programmone perché gli alti e bassi ci deliziano ci delizia una bella cosa bella bellissima bellissima grazie nino un abbraccio